Finalmente sul campo, ripresi gli allenamenti, già questa possiamo dire è una bella notizia. Qual è insomma il termometro, l'umore in casa a basketpegli con questa Serie B giovane, con questa Serie B che non vede l'ora di poter tornare in campo davvero nelle sfide che contano? Allora sicuramente siamo sì in campo, ma che campo? Nel senso che abbiamo la fortuna di allenarci soprattutto il giovedì in questo palazzetto completamente nuovo, che è un po' un gioiellino, perché non tutti hanno la possibilità di allenarsi in posti del genere. L'umore è altissimo e il primo giorno in cui abbiamo iniziato a fare contatti, le ragazze sembrano veramente quasi sotto effetti di droga, tra entusiasmo, emozione, c'era chi aveva addirittura gli occhi lucidi e non scherzo. Ovviamente la cosa bella di Peglie è che non ci siamo mai fermate, quindi comunque sia dal punto di vista di feeling, di squadra e di gruppo, c'è anche un aspetto tecnico che siamo riusciti a mantenere comunque a livello qualitativo molto elevato e quindi non possiamo che essere proprio positivi e aspettare nella speranza di poter giocare veramente. In attesa che possa arrivare quel momento, questo è un gruppo giovane, quindi grande entusiasmo, diceva anche il mister, non ci sono grandi aspettative sotto profilo del risultato, se non proprio quello di crescere e anche tanta curiosità per capire a che livello siete in quello che sarà questo campionato di Serie B. Assolutamente, l'unica aspettativa che abbiamo è quella di crescita, sia all'interno dell'allenamento stesso che poi di partita in partita, un gruppo giovane molto coeso, anche le ultime new entry da altre regioni comunque si sono integrate benissime, io per prima che arrivo da fuori mi sento praticamente a casa, quindi secondo me già questo è un aspetto importantissimo per poter far bene. Ripeto, siamo su un'ottima strada, una buonissima strada.